Ad Arezzo è stato un'estate tra cultura e turismo. È infatti a pochi mesi dalla loro nascita che le fondazioni Arezzo in Tura e Guido d'Arezzo stilano un primo bilancio delle attività svolte nel corso della stagione estiva che si è appena conclusa. Sono stati i mesi dei grandi eventi, dalla mostra di Gustavo a Sevez alla lirica all'anfiteatro, passando per le iniziative per i 50 anni della Fiera Antiquaria. Devo dire che le due fondazioni hanno un passo diverso rispetto alla stessa struttura quando si esprimeva come ufficio comunale, turismo o cultura. Le persone sono rimaste sostanzialmente le stesse, ma la facilità che una fondazione di partecipazione consente di avere dà il risultato in termini di efficienza. Grandi spettacoli, grandi occasioni, grandi mostre, tutto quello di cui questa città ha bisogno per veicolare la propria immagine nel mercato nazionale e internazionale del turismo, a partire dalla valorizzazione dei beni culturali già esistenti nella nostra città. Punto di svolta anche per quanto riguarda il frangente turistico, i pernottamenti sono infatti cresciuti del 38%. Abbiamo registrato ottimi risultati soprattutto dei stranieri. Pensate che i punti di informazione turistica hanno avuto più di 30.000 accessi solo nei mesi di giugno, luglio e agosto. Soprattutto agosto da solo ha fatto più di 12.000 persone che sono andati solo al punto di informazione a chiedere dove trovare eventi, dove trovare mappe, cosa andare a visitare. Molto positivo soprattutto perché il target finalmente sta cominciando a diventare internazionale, quindi tantissimi stranieri, soprattutto dall'Europa, quindi olandesi, francesi, belgi, sono quelli che abbiamo comunque monitorato di più. Tanti numeri, la fiera antiquaria grazie al cinquantenario ha ripreso vita, ha ripreso vita sia verso l'esterno, quindi tanti visitatori e tanti espositori. Ed adesso la fondazione Arezzo in Turzi apre all'ingresso di nuovi soci, 10 al momento i soggetti che hanno manifestato interesse ad entrare in società, tra questi gli sbandieratori. È importante che tutta la città creda in queste fondazioni e ci entri proprio come socio e che quindi dica la sua direttamente in tutti i tavoli. Ad Arezzo infine sarà anche un autunno ricco di eventi. Il 12 ottobre è un grande evento, la mostra sui bozzetti originali di Milo Manara sul libro di Caravaggio con gli illustratori di Caravaggio. Mostra di Aseves prorogata fino a gennaio, quindi un grande risultato per la nostra città che anche durante le vacanze di Natale proporrà le 200 opere di Aseves in città.